Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Senti che Bottas. Oggi siamo qui insieme per parlare del British GP, il Gran Premio di Silverstone, una gara forse tra le più emozionanti che abbiamo visto finora. Come sempre partiamo prima da un piccolo riassunto. Alla partenza, Verstappen è subito attaccato da entrambi le McLaren e sorprendentemente è Norris a prendere la testa del Gran Premio dopo la prima curva. Max recupera agevolmente la prima posizione dopo appena 5 giri con un sorpasso in curva 6. Al giro 33 e per la seconda volta nel weekend, la Haas di Kevin Magnussen si ferma per un guasto al motore causando una safety car. Dopo il solito giro dei pit stop, sono le Mercedes ad aver guadagnato molto dalla situazione, ritrovandosi terze e quinte. A discapito delle Ferrari che si erano fermate pochi giri prima. Alla ripartenza, Verstappen fugge via lasciando le McLaren e le Mercedes a battagliare tra di loro. Nonostante le gomme più morbide, né Hamilton né Russell riescono a sorpassare Norris e Piastri e a fine gara il podio vede Verstappen precedere Norris e Hamilton. Passiamo ora alle nostre react. Top di giornata, indubbiamente le McLaren. Norris è stato autore di uno straordinario secondo posto, in un campionato dove era arrivato a punti solo altre 4 volte. È stato uno dei pochi in grado di sorprendere Verstappen in partenza e a fine gara si è difeso con grandissima abilità da Hamilton, che sembrava avere tutte le condizioni giuste per superarlo. Ma se sul talento di Lando in realtà non c'erano molti dubbi, è stato proprio il suo compagno di squadra, Oscar Piastri, che ci ha finalmente fatto vedere cosa è in grado di fare. Dopo la ripartenza della safety car, Russell ha ammesso che Oscar era impossibile da sorpassare nonostante corresse con le gomme dure. E alla fine il giovane australiano ha tagliato il traguardo ad un solo secondo da Hamilton in terza posizione. Speriamo che per lui sia solo l'inizio. Perez ci sembra sempre più un pilota in scadenza. Sono ben 5 gare che Ceco non riesce ad arrivare in Q3 e a Silverson è uscito addirittura in Q1. La superiorità della sua Red Bull su passo gara gli permette di recuperare decentemente da suoi pessimi risultati in qualifica, ma conoscendo Horner abbiamo l'impressione che abbia già iniziato a guardarsi attorno. Albon è stato sorprendente e continua a reggere sulle sue spalle l'intero team Williams, che grazie ai suoi punti ora si trova in settima posizione davanti a Haas, Alfa Romeo e Alfa Tauri. Già dalle prove libere aveva dimostrato un ottimo ritmo e lo ha confermato con la sua terza apparizione in Q3 di fila e il suo ottavo posto in gara. Le Ferrari sono il nostro flop di giornata. Va bene che la safety car ha particolarmente sfavorito il cavallino, ma nell'ultima parte di gara Sainz è stato sorpassato praticamente da chiunque gli si avvicinasse e anche l'eclerc ha dato ben pochi segni di vita. Alla fine la scuderia di Maranello ha lasciato Silverson con soli 3 punti, e giusto perché le Alpine si sono ritirate. Stroll è stato avventato. Dopo una gara anonima, con una manovra assolutamente improponibile, ha danneggiato la vettura di Gasly che stava lottando per la top 10 e ha compromesso definitivamente anche la sua stessa gara, visto che dopo la penalizzazione è finito quattordicesimo. Infine, nota di merito per Sergent che in una Williams in grande spolvero si è finalmente fatto un po' notare e per i Mercedes che nonostante siano rimaste dietro alla McLaren hanno fatto abbastanza punti per continuare a distanziare le Aston Martin in campionato, i loro veri rivali nel 2023. Ma voi cosa ne avete pensato di questa gara? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Come sempre vi ringraziamo per averci seguito fin qui e vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale per non perdervi altri contenuti. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!